Chiarella, anzitutto ti facciamo i complimenti per l'esordio perché hai dimostrato grande personalità. Cosa si prova a 19 anni appena compiuti a essere titolare con la squadra di Pescara? È un'emozione indescrivibile. Io sono a Pescara da quando sono piccolo, è sempre stato il mio sogno, sordire all'Adriatico, poi da titolare non me l'aspettavo, è stata una bella emozione. Come ti è sembrata la squadra? Io direi che i primi 20 minuti tuoi sono stati davvero molto importanti. Sì, sono partito un po' con l'emozione, però alla fine ho preso il ritmo. Penso di aver fatto una discreta partita. Leri è molto meritocratico nelle scelte, hai fatto molto bene, quindi vuoi conservarla quella maglia? Sì, il mister non guarda in faccia a nessuno. Se dimostri in allenamento di meritare il posto titolare ti dà la maglia. Poi ovviamente io sono un giovane, quindi so di dovermi impegnare il doppio rispetto agli altri. Chiarella ha 19 anni appena compiuti, da grande dove si immagina Chiarella? Cosa si immagina? Qual è il sogno? Il sogno è di arrivare in Serie A, magari col Pescara.